ciao ragazzi ciao ragazze questo è il primo dei video della serie le compere di rachele perché siccome ha comprato tanta roba su un sito e i trucchi i vestiti tutte le cose così lo dove di spezzare perché erano troppi se no erano due ore di video e l'ultimo sarà 20 minuti 22 minuti non li metterò tutti i giorni veri metterò spezzati i vestiti le cose da comprato perché se no tutti i giorni rompono pezzo e questo sarà il primo video poi ci staranno altri video buona visione a questo video e ai prossimi 4 video 4 5 video ciao ciao ragazzi ciao ragazzi per oggi un altro video è oggi domenate cosa è arrivata a rachele a rachele che è arrivato ieri un pacco stavo aspettando altri pacchi per fare i video io non l'ho visti voglio vedere cosa sei ordinata vediamo a questo per le loro i pelucchi si si attacca sui barri questo per le loro i pelucchi si attacca su una porza questo per attaccare su una porza questo per attaccare su una porza vediamo fuori tiriamo fuori tiriamo fuori tiriamo fuori uuuuuh uuuuuh bello c'ha che si allaccia dietro mmm aaaah può pure scrivere il nome non so se si vede si ma tu non l'hai visti non l'ho visti non l'ho visti come si apri mmm bello apri se non te lo sarò pie pure fotografica pure fotografica ecco ah questo vabbè facciamo vedere prima fotografica numero 0 2 poi già qua apri mi riscato di grazie 0 2 mmm per il suo chiamato si va bene pure per me o tu sei più chiara bello si si dà il tappo poi questo che è brossetto mmm quello non mi si apriva cosa è qua super cosa e c'è numero 066 bellissimo lì si lì si vede che è più rosa qui invece è più marrone non so se si vede perché la luce prima questo questo che è correttore l'ampra questo 84 questo è rosa questo è rosa questo è rosa tutto e due tutto e due tutto e due no vediamo allora allora ah sta di contrario carino schermo la schiena tra i schiena lo stendere schiena se avranno tutte e due vediamoli qua uno in mascara questo è mascara? è fino bello bello poi il rossetto 504 burro cacao ok Lucia l'apro bello sicuramente quando farò un videotrucco te lo ciopperò questo è il correttore numero 03 questo c'è è tutto fatto di stelline penso che ti ho fatto un video che siete i trucchi le stelline voglio vabbè te lo faccio vedere che sentite ah te lo faccio voilà bello che se lo senti vediamo se ce lo usciamo qua non ci sono i numeri ah sì questo è io uno io uno c'è scritto questo questo sembra un rossetto così invece così quale sito sentata per comprare questo sito qua poi vediamo quest'altro sicuramente dovrò fare due cose ah rosso questo mi piace perché rosso sono fissati rosso poi ah un rossetto numero il 02 procura troverai il 02 questa è tutta una scatola tra l'inguezito questo 03 bello quanti trucchi c'hai quello lì per passare e questo è fatto così con la scatola lì la prossima questa è la risvelo me la ruberò molto brillantinosa molto luccicosa cioè gli riflessi colorati e si apre così è luccicosa come quella di fuori aspettiamo come si apre voilà ti 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 se no si vede la chieri così bello sì finiti i trucchi no ancora adesso 8-10 4 mettiamo dentro ok mettiamo dentro 4 e l'ultima cosa dei trucchi è questa mela questa mela bellissima vediamo se sia la mela ci sono tagliaunghie si leva tutto forbicini per levare le ciglia si può no? bellissima questo non so che è per punti neri ah per punti neri e questa puntata che è? fa la stessa cosa ah non ti taglia con di piccolo questo va per le cuticole perché non so qua dove fa c'è la rugge mi fia questo non so che è ah per arrazzare le cuticole forse questo va a ammazzare qualcuno bellissima ti ammazzano prima loro perché prima che lo dirisori rimetto e lo specchietto tocca a fare tocca a rimettere dentro tutto sembra il cortello voilà o se stava si voilà poi come stava non ricordo come stavo io li mette a posto ragiere perché questa era una mera carina dopo li mette a posto ok questo è il primo video che abbiamo fatto perché mo ci stanno i vestiti il prossimo video non ve lo perdete che ci saranno i vestiti nuovi di ragiere mettetemi like se vi è piaciuto iscrivetevi al mio canale cliccate la campanellina non vi scordate di iscrivervi non vi scordate di iscrivervi per vedere il prossimo video che si è comprato ragiere ciao al prossimo video ciao gurelini